Più Europa appoggia la candidatura di Carlo Costantini non con una lista a parte ma con alcune persone che saranno nella sua lista una scelta che è stata spiegata oggi in conferenza stampa. Gli amici di Più Europa sono al mio fianco già dal 2014, da quando abbiamo costruito la proposta referendaria che è stata votata dal 71% dei pescaresi. Io con il mio polo civico voglio rappresentarli tutti e per farlo evidentemente non ho potuto accettare il sostegno di partiti politici. Loro sono un partito politico ma hanno accettato di buon grado la prospettiva di rinunciare alla presentazione del simbolo e di inserire candidati nelle mie liste. I partiti sono un problema e sono un limite rispetto alla nascita della grande città. Lo dimostra plasticamente la posizione del candidato sindaco Masci che in questi giorni si sta dichiarando favorevole alla realizzazione della grande città ma al tempo stesso la posizione del suo partito di maggioranza relativa, la Lega, che a Montesilvano sta raccogliendo le firme per far abrogare la legge istitutiva del nuovo comune. Io non riesco a immaginare come maggioranze così litigiose e così divise rispetto a progetti strategici per il futuro di Pescara possano assicurare i pescaresi rispetto al raggiungimento di un obiettivo che è l'obiettivo di tutti. Perché se nel 2014 erano il 71% oggi penso che almeno l'80-90% dei pescaresi siano favorevoli alla realizzazione della grande città. Per noi la realizzazione del progetto La Grande Pescara è di per sé un programma elettorale. Carlo Costantini è la persona migliore per portare la nostra città al compimento di questo grande passaggio. Vogliamo una città più grande. Come più Europa siamo federatori, vogliamo gli Stati Uniti d'Europa e ci riteniamo federatori anche sul territorio. Quindi riteniamo che il progetto La Grande Pescara debba essere portato a termine e vediamo in Carlo Costantini la persona che saprà realizzarlo con assoluta determinazione. Grazie. Grazie.